c'è ragazzi siamo portati siamo qua ai portali a san giovanni la punta penso che sia l'ultimo punto di panto store vediamo se qua pagherà un'altra brutta figura ragazzi e sandali picchini sandalo scelto salve salve che ti conoscono tutti no chi gliel'ha detto a lei ma proprio ma sti commessi capi su panto store proprio subito va beh comunque sì effettivamente siamo noi dobbiamo pagare dobbiamo allora io me le sono messe queste avaianas perché la giornata è di caldo certo sono comodissime però certo mi hanno incontrato all'inverno pure no quindi a parte l'avaianas non lo so un bel paio di ciabatte le posso provare o i galli devono essere comodosi perché c'hai i galli purtroppo la notte di capodanno io me li potrei mettere anche per andare a ballare o me li porto nella busta e festeggio i stacoli ciabatte di panto store a capodanno poi ci sta tutto l'anno certo ma poi quando de fonseca in blu tiglio disney store qualcosa della disney quindi certo abbiamo tanta scelta anche per la mia ex moglie tra poco dobbiamo ci pensiamo anche per la mia ex moglie mi raccomando senti sempre in mezzo ai piedi non paghiamo tanto non paghiamo anche ti devi prendere allora dai allora le scegliamo con calma cosa ci consiglia lesi allora c'è il bordeaux a coppio il pavion bordeaux a capodanno no vabbè 43 44 42 43 scelta si vediamo se c'è un pavion nel quadretto c'è un pavion ragazzi guardate che meraviglia ma vediamo c'è no 41 42 signorina nel dito nell'albush poi già che c'ho i calli vediamo si proviamoci se c'è la vera signorina ma anche per me ci sono ciabatte vero io c'ho un piede un pochino più importante ma cosa c'entri tu hai i calli che c'entra i calli ma a capodanno magari se avete i calli venite tutti qua che c'è altro che di più ma tutti l'hanno i calli magari di sotto come sono bellissimi ragazzi guardate che meraviglia ma si possono staccare che non le capisco a tra poco a tra poco